Nelle acque del Golfo Partenopeo torna la 49esima edizione della Capri-Napoli, la maratona di nuoto valida come prova conclusiva di Coppa del Mondo in acque libere per le distanze uguali o superiori ai 15 chilometri. Si parte domenica 7 settembre alle 9.30 dall'ido Leondini di Capri, dove scenderanno in acqua 30 nuotatori in rappresentanza di 17 nazioni. L'obiettivo è raggiungere per primi il traguardo sistemato nella zona antistante il Circolo Canottieri di Napoli dopo aver nuotato per 36 chilometri, un'impresa non semplice e alla quale tutti i migliori atleti hanno confermato la loro partecipazione. Avremo un arrivo che ben si addice alla competizione, valida per la tappa finale di Coppa del Mondo, arriveremo al Circolo Canottieri di Napoli, quindi i nuotatori avranno un post-gara adeguato visto che praticamente rispetto al passato dove si arrivava nel lungomare c'era ovviamente una soluzione logistica meno adatta. La parte finale del percorso sarà comunque aperta a tutti, la gente dal lungomare, dalla parte di Viana Zerosauro, potrà comunque assistere agli ultimi 500-600 metri di gara, quelli che poi sono quelli più interessanti perché malgrado si tratti di una maratona molto spesso è capitato negli ultimi anni alla Capri Napoli che i concorrenti arrivassero molto vicini, abbiamo avuto anche un arrivo al photo finish. La celebre competizione nasce nel 49 e rappresenta la maratona di nuoto per eccellenza, la più lunga e faticosa tra quelle che si svolgono in mare aperto, tante anche le iniziative collaterali alla gara che quest'anno avrà come testimonial il comico napoletano Lino D'Angio. L'amministrazione in questo caso non soltanto condivide ma supporta appieno questo evento perché, ripeto, fa parte della nostra tradizione. Riteniamo che lo spirito di eventi internazionali come la Capri Napoli ma così come tutti gli eventi sportivi siano fortemente importanti per ciò che essi rappresentano. Parliamo di misurazione con se stessi, parliamo di superamento dei propri limiti, ricordando quello che è il significato vero dello sport, cioè il gioco e il divertimento.